Sono migliorate nella notte le condizioni della 34enne di Rufina, Firenze, ricoverata da ieri nell'ospedale fiorentino di Santa Maria Annunziata per un'infezione da meningococco C. È quanto spiega la ASL che rivolge un appello ad effettuare la profilassia antibiotica a chi l'11 marzo ha frequentato il ristorante pizzeria Via Vai di Via Pisana 33 a Firenze dalle 21.30 alle 24 e la discoteca Club 999 di Viale Galileo Galilei 21 a Prato in data 12 marzo dalle 1 alle 5.30 del mattino. Entrambi sono i luoghi che la 34enne ha frequentato. La profilassia è indicata anche se è già stata effettuata la vaccinazione antimeningococcica. La ASL, ricordando che la giovane donna non aveva effettuato la vaccinazione, ribadisce come sia importante la massima adesione da parte della popolazione alla campagna promossa dalla regione toscana, soprattutto da parte dei giovani, per vaccinarsi. Per questo è stata inviata anche una lettera ai genitori dei ragazzi e ai giovani delle società sportive per invitarli a vaccinarsi. La ASL rileva inoltre che negli ultimi dieci giorni le richieste degli appuntamenti per le vaccinazioni contro il meningococco C sono diminuite di circa il 25% in tutto il territorio della ASL Toscana Centro. Un dato che ha allarmato le strutture di igiene e sanità pubblica. Paolo Bonanni, ordinario di igiene all'Università degli Studi di Firenze, ha voluto fare un appello a aumentare la vaccinazione contro la meningite di tipo C nella fascia di età 11-20 anni per contrastare l'aumento di casi registrati in Toscana. Sono più di 50 i casi di meningite segnalati in Toscana tra il 2015 e il 2016, di cui oltre l'80% riconducibili al CEPO-C. Per spegnere la recrudescenza di meningite registrate nell'ultimo anno, ha affermato ancora Bonanni è fondamentale che i genitori degli adolescenti accettino la vaccinazione più di quanto hanno fatto finora.